Buonasera, dal Sireno de Bergerac di Edmond Rostand, un bacio. Un bacio. Ma cos'è poi un bacio? Un giuramento un po' più da vicino? Una promessa più precisa? Una confessione che cerca una conferma? Un apostrofo roseo fra le parole tamo? Un segreto soffiato in bocca invece che all'orecchio? Un frammento d'eternità che ronza come le ali di un'ave? Una comunione che sa di fiori? Un modo di respirarsi il cuore e di scambiarsi sulle labbra il sapore dell'anima?